Dovete schiararvi, ragazzi. Così non si vede. Schiaratevi, schiaratevi. Oh, wow! Addirittura un supereroe. Perché il mantello? Perché il mantello, è vero? Ero dal barbiere e sono corso qua. Vincent, ancora non hai capito, vero? La prima volta potrai fregarmi, ma la seconda volta non puoi fregarmi. Ne sei proprio sicuro? Anch'io ho una piccola polizza assicurativa, amico. Io pensavo di averli eliminati tutti. Non letale. Dovevo ricordarmelo. Ci ho fregato di nuovo. Siamo addestrati a localizzare, dissuadere, osservare e fare rapporto. Ma un certo giorno di circa sei anni fa, un uomo fece più del suo dovere. E io sono quel l'uomo! Noi siamo quel l'uomo! E quindi sa che li dico, signore? Footlocker! Dammi la pistola. Eliminateli. Vai. Il tappeto ha un lembo sollevato. Bisogna avvertire qualcuno. Me lo ricordo? Sì, d'accordo. Footlocker! Sì, d'accordo. Papà! Papà! Io corro a Veliparta! Papà! Papà! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! Ah! Oh, no! No! Oh! Oh! No! 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 Ah! 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 No! Sì!